Polpo alla Luciana, ricordi d'infanzia di un grande trio chef in camicia 1 Ragazzi, quando sono nella cucina bianca mi sento un altro, super pulita, luminosa, con un sacco di ingredienti rossi, verdi, coloratissimi Iniziamo, facciamo un grande must che ha reso famosi gli chef in camicia Vai! Il polpo alla Luciana, ragazzi Per ogni ricetta che noi chiaramente quando facevamo un catering all'inizio copiavamo Perché non abbiamo mai inventato delle ricette a parte qualcuna particolare tipo la tartare chef in camicia Ma diciamo abbiamo sempre preso ispirazione da dei capostipiti della cucina italiana E questa è una di quelle ricette, il polpo alla Luciana Iniziamo, vi dico gli ingredienti Olio d'oliva buono, olive, aglio, peperoncino, capperi dissalati, prezzemolo, un po' di sale, della polpa di pomodoro E dei pomodorini, ciliegino tagliati in due Ovviamente il ingrediente principale è uno e vado a prenderlo in frigo Il polpo! Polpo! Siamo andati in pescheria e l'abbiamo fatto semplicemente pulire Cosa facciamo? Iniziamo a prendere una casserola in ghisa Che servirà per fare queste cotture comunque un pochino lunghe Avremo circa 40 minuti di cottura E tutti i sapori diciamo si misceleranno tra loro E ribollendono i propri succhi, i propri liquidi Il sapore sarà intensissimo e il sugo diventerà molto denso Voilà! Pentola! Here we are! Accendiamo il fuocherello La cottura deve essere costante e non troppo alta Quindi aglio, tre belli spicchiettoni, eccoli qua Abbiamo l'aglio e lo mettiamo in padella con un filo d'olio e peperoncino Prendiamo un bel peperoncino, anzi facciamo due e li rompiamo così a mano all'interno La pentola sentiamo a scaldarsi Noi aspettiamo un secondo e appena in temperatura iniziamo a fare il soffritto Dopodiché aggiungeremo pomodorini, passata e polpo Perché facevamo il polpo alla Luciana noi? Beh perché è una ricetta che ti salva Perché noi facevamo principalmente dei finger food E con dei finger food a base di polpo alla Luciana possiamo fare quello che vogliamo Perché poteva essere un entrè con dei crostini, quindi poteva fare d'antipasto Poi invece allo stesso tempo poteva essere anche riutilizzata Magari per il giorno dopo perché se conservata bene è una ricetta, è un sugo Poteva essere triturato il polpo e si poteva fare una pasta magari Oppure può essere anche utilizzato come secondo magari con della polentina Non lo so, ci sono mille modi per poterlo utilizzare Quindi diciamo che il polpo alla Luciana era quella ricetta salvagente Molto bene ragazzi, allora adesso è arrivato il momento di aggiungere i pomodorini Sentiamo se è in temperatura Un rumore pazzesco E la cosa che mi fa ancora più piacere è avere questo piano di lavoro pazzesco Cucina Febalcasa che è spazioso, luminoso e ti fa lavorare in ogni punto della cucina tranquillamente Senza doverti incastrare con ciotole e cose, quindi perfetta Adesso abbiamo i pomodorini che stanno andando Mettiamo un pizzichino di sale ma non troppo perché poi avremo anche i capperi e le olive Che rilasceranno abbastanza sapidità alla nostra preparazione Quindi tre minuti così, bello tosto E poi andiamo col polpo Polpo Pomodorino che va, questo l'abbiamo dimenticato Oh, dentro Polpo in padella, lo scottiamo bene e poi copriamo con la passata A quel punto facciamo andare 35 minuti e aspettiamo Disponiamo il polpo molto bene dentro la padella Quindi la testa deve essere in centro della casseruola E tutti i tentacli devono andare a coprire la padella di modo che la cottura sarà omogenea Adesso stiamo prendendo una bella temperatura Il polpo piano piano si sta inturgidendo perché col vapore inizierà a cuocere col calore Quindi prendiamo la nostra passata e facciamo così Opla Poi un pochino d'acqua e copriamo il tutto bene Mettiamo il coperchio Abbassiamo la fiamma Ci vediamo tra 40 minuti Bene ragazzi, sono passati circa 30 minuti Adesso andiamo ad aggiungere le olive, i capperi E facciamo cuocere per altri 10 minuti Dopodiché prezzemolo, filo d'olio e siamo pronti Molto bene raga Apriamo Wow, che meraviglia, meraviglioso Cosa facciamo adesso? Prendiamo un po' di prezzemolo fresco che ho tritato e lo mettiamo sopra Abbondiamo che il prezzemolo col pesce ci sta molto 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 bene Filo d'olio Prendiamo una casseruola Prendiamo il nostro polpo e lo appoggiamo qua Aggiungiamo il sugo e siamo pronti per l'assaggio E voilà Finiamo con un girettino d'olio a crudo che lucida bene il tutto Spolverata di prezzemolo ancora E amici, il piatto più versatile degli chef in camicia ai tempi dei catering è pronto Assaggiamo Posso mangiare anche così Cioè, piccante al punto giusto, cotto bene Ragazzi, questo è un sugo per una pasta fantastico Quindi potete usare magari il polpo per un antipasto o per un secondo Il sugo lo tenete da parte e ci fate uno spaghetto Grandi classici Non si dimenticano mai, questa è la verità Buon appetito ragazzi, ciao Grazie a tutti